Musica Armani sconfitta in Neurolegia Si ispirano ai cartoon giapponesi ma sono un prodotto tutto italiano Le Wings, fortunata serie tv distribuita in 131 paesi del mondo Compiono 10 anni e diventano un musical Oggi e domani ad Assago Tengono incollate alla tv le bambine di mezzo mondo Parliamo delle fattine Wings che per festeggiare questo compleanno Lasciano il piccolo schermo e diventano un musical In scena al teatro della luna di Assago Si ispirano ai cartoon giapponesi ma sono un prodotto tutto italiano Le Wings, il magico team di fattine capitanato da Bloom Sono nate nel 2004 dalla fantasia creativa di Eugenio Straffi Fin dal loro esordio su Rai 2 sono diventate immediatamente tra le bambine Un fenomeno di culto Un successo che ha poi generato film, spettacoli teatrali, giocattoli e gadgets di ogni genere Da allora la fortunata serie tv è distribuita in 131 paesi del mondo In occasione dei loro 10 anni le Wings vesteggiano con un musical Dedicato a tutte le giovanissime fan e alle loro famiglie Lo show celebrativo è in tournée italiana Sarà in scena al teatro della luna di Assago per due date nel fine settimana Effetti speciali, canzoni, balletti e volteggi a mezz'aria Lo spettacolo con la regia di Gianni Donati condurrà le giovani spettatrici ad Alfea L'universo incantato è ricco di avventure dove vivono Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha Grazie 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 a tutti.